Una donna di 56 anni, residente sulla costa romagnole, è in carcere con l'ipotesi d'accusa di tentato omicidio aggravato. I fatti risalgono al 15 ottobre 2017, quando i vicini trovarono a Cesenatico l'87enne Alfonso Benini nel giardino di Casio in un lago di sangue. L'uomo era stato ripetutamente colpito al capo con un oggetto contundente, non ritrovato, che gli aveva procurato gravissime fratture e traumi. Da qui sono partite le indagini dei carabinieri. Dopo una prima esclusione della possibilità del fatto che potesse essere un'aggressione da parte di terzi, che era quello che ci preoccupava maggiormente, un'analisi dei rapporti familiari, questioni verosimente economiche, ci hanno fatto propendere un'analisi, anche un sopralluogo approfondito e ripetuto, dove è successo il fatto dell'abitazione, ci ha permesso di intuire la possibilità che l'aggressione fosse ristretta a ambito familiare. Quali le motivazioni di questa presunta aggressione? Da quello che abbiamo potuto ricostruire sono motivazioni di carattere di conflittualità familiari indotte da problematiche di natura economica. Alla base della presunta aggressione ci sarebbe dunque il timore della donna, dopo anni di servigi, di essere esclusa dal testamento e dalla revoca di una polizza vita di cui era beneficiaria, dopo un tentativo fallito, di far interdire l'anziano. E come sta l'87enne? L'anziano è ancora ricoverato, è una situazione stabile ma sicuramente grave. Al momento non si può dire che sia in pericolo di via, però è una condizione stabile, verosimente non potrà riprendere la sua situazione precedente all'aggressione.